Dopo la dimissione di 9 dei 16 componenti del Consiglio Comunale, il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, ha sospeso il Consiglio Comunale di Cassano Loionio. Come succede in questi casi, dopo la sospensione arriva subito la nomina del commissario prefettizio, che dovrà gestire l'ente fino alle elezioni. Così il prefetto Tomao, incaricato della provvisoria gestione del Comune, il vice prefetto Emanuele Agreco, conferendole come da prassi, oltre ai poteri spettanti al Consiglio, anche quelli del Sindaco e della Giunta Comunale. Finisce dunque l'era Papasso, che era stato letto Sindaco nella primavera del 2012. La sua è stata un'amministrazione che si è retta, senza una maggioranza in Consiglio, la cosiddetta anatrazoppa a circostanza possibile, nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, laddove ha ammesso il voto disgiunto. Lo stesso Papasso, intanto, si è complimentato con il prefetto per la nomina del commissario, poiché sono note, detto l'ormai ex Sindaco, le qualità personali ed umane della dottoressa Greco.